Sì, dai, yuhu, wow, e viva! Crystal, giù al set! Final live start! Miracle Tunes Final Transformation Crystal Melody Tuning Questa è la trasformazione finale! Wow, mi sento così potente! Sì, possiamo combattere tutte le creature del male! È lo scelto della trasformazione finale! Con la trasformazione finale si creerà un'enorme quantità di potere Grazie ad essa anche il più cattivo dei nemici potrà essere sconfitto Zea! Proteggici nel combattimento! Sì, è inutile che cattivo di potere Iti che non è un'enorme! La torre è la nostra, un'enorme! T'è un'unico che di grido con il sostiene? Sónico! Con la torre è la soluzione! Sì! S'dere! Final Rai with Speckle! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!